La funzione di accesso facilitato del portellone consente di aprirlo o chiuderlo anche con le mani impegnate. Questa funzione è disponibile solo se il veicolo è fermo a motore spento e non nella modalità stand-by della funzione stop and start. Con la carta Renault indosso, eseguire un movimento ininterrotto del piede dalla parte posteriore verso la parte anteriore all'interno dell'area di rilevamento. Se il veicolo prevede un gancio di traino, eseguire il movimento nell'area a sinistra del gancio di traino. La chiusura avviene allo stesso modo. In seguito al rilevamento del comando di chiusura, il portellone si chiude dopo circa 3 secondi e si avverte un segnale acustico. Il portellone può essere sbloccato manualmente in caso di emergenza tramite una leva accessibile rimuovendo il coperchio della sezione inferiore centrale del portellone.